salve a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video oggi siamo tornati con la con la con il fine night at freddy's ultimate custom night la scorsa volta non siamo andati molto male abbiamo fatto 400 punti adesso proseguiremo allora mettiamo ovviamente i due ballon balli metteremo sempre lo chiedono da scarsissimi poi aggiungiamo poi circa livello cinque anzi mettiamo da livello venti tre buoni e 3 città livello 20 ok così famo 800 ma d'accordo animatroni c'è chi vuole scuola guardate se fosse brilgante dai ecco qui è Grazie. Ok. I toy non sono molto difficili da sconfiggio, sono abbastanza facili dai ragazzi. Devi solo preoccuparti di metterti la maschera. Ok, io sto mandando molto male. Speriamo accendere anche che non mi si vede bene. Ok. Dai che sto già alle quattro, già facciamo la crescita. Ok. Ok. Adesso non ho 5 ragazzi manca un'ora, che sarebbe circa un minuto che non so. Ok. 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 Ho vinto Si ho vinto Ok ragazzi ho vinto Adesso abbiamo 800 punti Ok ragazzi Allora questo video possiamo concludere Lasciate i like Iscrivetevi al canale E allora ciao e al prossimo video Ciao